Ed ora voglio farvi vedere sul nostro sito, sono apparsi questi insulti nei confronti del leader di un partito nazionale che è Giorgia Meloni. Questi sono gli epiteti utilizzati che leggiamo, una vacca, una scrofa, il prof Gozzini, nella bufera dopo gli insulti a Giorgia Meloni. Lei ringrazia Mattarella che ha chiamato il leader di Fratelli d'Italia per la solidarietà. Allora, per coloro che non lo sapessero, io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è anche la mia compagna, ma la madre di mia figlia. E si dà il caso che io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita. Quindi non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini e indegni e vergognosi. Questo è quanto vi dovevo dire e adesso andiamo in Rassegna Stampa.